buonasera buonasera tutti io sono dorian e sono uno dei fondatori della società dello zolfo un centro di studi e ricerche su occultismo ed esoterismo nato in italia nel 2015 da anni ci occupiamo di portare conferenze conveni ed eventi corsi al pubblico italiano su questi argomenti questa sera siamo qua per una nuova puntata della nona porta che è la nostra rubrica sulle novità editoriali che sono appena uscita e tra l'altro stasera per me è una salata felice perché presentiamo il libro di un membro della società dello zolfo un carissimo amico che c'è dagli inizi con noi per cui sono estremamente felice sia per il suo libro sia perché il libro è uscito proprio sulla sua stessa casa editrice che adesso ce ne parlerà parleremo del suo libro parleremo dei suoi progetti prima di iniziare con la serata di questa sera vi ricordo come sempre i prossimi appuntamenti la prossima conferenza uscirà domani alle 18 quindi state connessi ai nostri canali che sono canale facebook canale instagram canale telegram società dello zolfo e troverete domani alle 6 di sera il nostro la nostra uscita per quanto riguarda le conferenze mentre invece per quanto riguarda i corsi anche il corso di roberto cecchetti su jung è iniziato proprio la settimana scorsa quello di michele leone sulle tecniche magiche di giordano bruno era la seconda puntata proprio ieri e questa settimana abbiamo lanciato il prossimo corso che inizierà il 20 aprile e che sarà il continuo di un corso che era andato in tutto esaurito ed era introduzione alla storia dell'esoterismo occidentale un corso che tratta della storia dell'esoterismo occidentale dell'analisi dell'esoterismo occidentale di come studiare proprio l'esoterismo il primo corso era tenuto da michele olzi con la parte speciale partecipazione di claudio bonvecchio questo corso è tenuto sempre dal nostro michele olzi in collaborazione con massimo introvinia che siamo fieri di ospitare per un corso all'interno della società dello zolfo la prima lezione del del secondo di questo corso chiamato introduzione alla storia dell'esoterismo due tratta una lezione sono quattro lezioni da due loro e luna una lezione si concentrerà sulla golden dawn una lezione si concentrerà sull'otio una lezione si concentrerà su scientologi e sarà la lezione tenuta da massimo introvinia e una lezione si concentrerà su il satanismo e il luciferismo io vi invito se siete interessati a questo corso a scrivere subito a la società dello zolfo chiocciolagmail.com e a prendere un posto perché stanno già andando via tanti posti e abbiamo come al solito un numero massimo che è quello di 50 persone perché di più sono di difficile gestione quindi se siete interessati scrivete la società dello zolfo chiocciolagmail.com io adesso mando la sigla e ci vediamo da un attimo con l'ospite di questa sera rieccoci qua e benvenuto a marco maculotti ciao grazie grazie donen è sempre un piacere essere ospite vostro siamo ormai amici da anni è sempre un piacere ringrazio anche tutti quelli che stanno seguendo e che seguiranno nel corso della discussione bene un piacere è nostro marco lo sai e quindi grazie di aver deciso di presentare il libro il tuo nuovo libro da noi sono molto contento perché ho visto un nascita con te nel senso che qualche volta quando ci sentivamo mi dicevi che stavi scrivendo il libro quindi vederlo realizzato è un enorme piacere e bene quindi inizierai subito che sei sempre uno dei relatori che ha tante cose da dire quindi prima di iniziare voglio dire due parole su di te perché ancora non ti conosce marco maculotti è editore e scrittore è nato a cremona si è laureato a milano è il fondatore e direttore di axis mundi rivista online di cultura antropologia del sacro storia delle religioni esoterismo folklore letteratura del fantastico pubblica da diversi anni su riviste tradizionali come atrium artos studi lost castiani e molte altre e da poco ha creato la sua casa editrice che è proprio axis mundi edizioni per cui è pubblicato il volume che presentiamo questa sera dal titolo l'angelo dell'abisso appollo avalon il mito polare e l'apocalisse bene fatto bene a farlo vedere che non c'è ancora una coppia purtroppo non non vi ho ancora potuto inviare le coppie perché mi sono arrivate ieri quindi nei prossimi giorni comunque le invierò a tutti coloro che l'hanno ordinato in prevendita anzi vi voglio ringraziare a tutti quelli che l'hanno ordinato che veramente siete già un bel po' spero di stare dietro alle spedizioni perché faccio tutto da solo comunque nei prossimi giorni mi spedirò a tutti gli ordini grazie bene allora marco io parto subito con questa domanda che è questa intanto è la prima domanda che ti faccio è come ti è venuta l'idea di questo libro bene allora come mi è venuta l'idea di questo libro ne parlo parzialmente nella prefazione nella brevissima prefazione di un paio di paginette che ho voluto appunto scrivere così brevemente per non appesantire un'opera che è già molto corposa di suo io negli scorsi anni ho tenuto delle conferenze sul tema dello sciamanesimo greco soprattutto dello sciamanesimo appunto appollineo dei cosiddetti iatromanti e tra l'altro una di queste conferenze l'ho tenuta appunto con gli amici della società Nello Zolfo in quel di Avignana proprio in occasione di questa conferenza io trovandomi in loco in Val di Susa andai a visitare con un mio amico proprio il giorno stesso della conferenza la sacra di San Michele come vedremo poi nel libro l'arcangelo Michele e Apollo sono strettamente connessi soprattutto nel secondo capitolo poi vedremo il perché mentre io mi trovavo a visitare questa appunto la sacra di San Michele notai che sulla strada per accedere appunto alla sacra ci sono ancora oggi delle bancarelle che vendono il miele e soprattutto mi stupì vedere delle statuette fatte con la cera d'api appunto a forma di San Michele che uccide il drago questa osservazione mi fece scattare qualcosa nel senso che compresi poi avremo modo anche di vedere perché il miele è un topo sapollineo dei più classici e mi sorprese vedere che ancora oggi nella sacra di San Michele troviamo ancora questo collegamento con il miele con la cera delle api che un tempo erano sacre ad Apollo e adesso chiaramente lo sono a San Michele quindi iniziai a indagare meglio anche sull'ambito appunto della linea sacra di San Michele e dei centri sacri appollinei e capì che in realtà ci sono innumerevoli collegamenti che a parte il noto studioso di Geomanzia Antica Richet francese, ben pochi altri, forse nessuno hanno studiato come si deve a mio parere comunque avremo modo di parlare sia di questo che di altri elementi appunto perché ogni capitolo è come se fosse una cosa un po' a parte anche se tutti quanti si collegano, i capitoli sono cinque e appunto come vedremo alcuni uno il primo è dedicato allo sciamanesimo greco di come abbiamo appunto accennato appena adesso poi c'è appunto il secondo che è centrato sui centri sacri appollinei e poi collegamento con quelli di San Michele e poi i capitoli a seguire trattano di argomenti specifici del mito appollineo però con un'analisi appunto più larga di come si usa fare, si usava a fare in realtà nella storia delle religioni dello scorso secolo e quindi allargando il campo di analisi insomma ai topoi similari per esempio nel terzo capitolo come vedremo parlo dell'Ipervoria, cioè l'isola sacra di Apollo confrontando altre isole sacre della tradizione greca e indoeuropea più in generale nel quarto capitolo una analisi cosmologica del mito appollineo e del mito dell'isola sacra e nel quinto capitolo, vi richiamato poi anche nel titolo dell'Apocalisse, gli elementi appollinei nei testi apocalittici e descatologici come appunto l'Apocalisse di Giovanni in cui Apollo viene denominato l'angelo dell'abisso, da cui appunto il titolo del libro, gli oracoli sibillini e la quarta egloga di Virgilio dalle bucoliche. Bene, allora hai già spoilerato un po' del qualcosa, noi stasera abbiamo preparato delle domande proprio basandoci sui capitoli, sostanzialmente, essendo che sono legati da un firouge ma diversi tra loro come argomenti trattati. La prima domanda quindi che ti faccio sul volume che stiamo presentando è questa. Nel primo capitolo tratti dello sciamanesimo greco, ti chiedo intanto se puoi parlarcene e se puoi dirci quali sono le caratteristiche principali e quali le principali figure di riferimento. Bene, quando si parla di sciamanesimo greco solitamente si fa riferimento a Dioniso, si fa riferimento culti estatici di questo tipo. Tuttavia ci sono stati una serie di autori nel secolo scorso che hanno analizzato l'argomento sciamanesimo greco non dall'ambito di studio Dionisiaco ma da quello a Pollineo. In Italia abbiamo avuto il filosofo Giorgio Colli, il filosofo torinese Giorgio Colli che ha pubblicato per Adelphi vari testi imprescindibili sull'argomento come la nascita della filosofia, Pollineo Dionisiaco e la sapienza greca in tre volumi. L'altro autore che io cito largamente in questo primo capitolo è Ioan Petro Culliano, storico delle religioni romeno, allievo di Mirce Eliade, scrisse un libro nel 1991 intitolato I viaggi dell'anima in cui dedico all'ottavo capitolo appunto allo sciamanesimo greco e in particolar modo agli iatromanti a Pollinei. Proprio da Giorgio Colli e da Ioan Petro Culliano io parto appunto nell'analisi dello sciamanesimo greco dal punto di vista a Pollineo, dal punto di vista degli iatromanti. C'è da dire che Culliano riprende altri autori a lui precedenti della prima metà del Novecento e intorno alla metà del Novecento come per esempio Meuli, come altri che hanno analizzato anche i rapporti della Grecia arcaica, quindi preistorica con l'India, con la Scizia, cioè con le sterminate steppe caucasiche da cui provenivano le popolazioni appunto caucasiche e le invasioni cosiddette indoeuropee. In questo primo capitolo appunto io metto in risalto come quando si parla di sciamanesimo greco, in realtà la definizione vada estesa all'ambito innanzitutto della Tracia, perché diversi iatromanti sciamani greci vengono proprio geograficamente dalla Scizia, dalla Tracia, quindi da quella larghissima area di terra che sta tra l'Europa orientale e l'Asia, quindi passando per le steppe russe della Siberia via dicendo. Soprattutto i nomi che si fanno sempre a riguardo sono Abaris, che è quello sciamano appollineo che si diceva viaggiasse in stato di trance su una freccia dorata, oppure si fa riferimento ad Aristia di Proconneso, di cui non c'è arrivato un suo trattato che appunto era incentrato sui viaggi mistici in spirito verso questo nord polare che appunto nel mito greco viene collegato ad Apollo con il nome di Iperboria, questa isola mitica di cui poi andremo a parlare meglio più avanti. Tuttavia anche diverse altre figure semi storiche o mitiche della tradizione greca e traccia come il più famoso di quali è Orfeo chiaramente, ovviamente presentano dei caratteri indubbiamente sciamanici di cui possiamo vedere delle corrispondenze incredibili con la tradizione sciamanica anche studiata etnologicamente nell'Ottocento e nel Novecento dell'area siberiana, dell'area mongola. Già Giorgio Colli e io Ampetro Culliano avevano notato come quando si parla di tradizione sciamanica greca, apollinea e iatromantica in realtà ci sono molti punti di contatto con la tradizione sciamanica asiatica più che con la religione classica greca stritto senso, quindi questo è stato il punto di partenza appunto del primo capitolo. In realtà se andiamo anche ad analizzare la vita e le leggende di personaggi come Pitagora o anche di filosofi come presocratici, come Empedocle, come Eraclito oppure addirittura anche Socrate che viene definito uno sciamano iatromante in un famoso passo di Clemente Alessandrino in cui elencava appunto gli iatromanti greci, noi vediamo che il concetto di sciamano e iatromante nell'antica grecia era appunto diffuso anche ai filosofi, quindi qui dobbiamo riallacciarsi a Giorgio Colli che attestò come la filosofia in Grecia non nacque come analisi sul linguaggio, come analisi come siamo abituati ad intenderla post-canti insomma, ma anzi come la sapienza sacra che nasce invece dalla mania, cioè dalla follia divina e la follia divina secondo Giorgio Colli non spetta a Dioniso ma spetta ad Apollo e Apollo in questa sua funzione sacra legata alla profezia come poi vedremo più avanti anche con riguardo all'Apocalisse, questa funzione di Apollo riguardo appunto alla profezia noi la possiamo trovare nella vita stessa dei vari iatromanti, cioè di Pitagora, di Aristeri Proconneso, ci sono un'altra serie di nomi che magari adesso non faremo tutti per non pesantire la discussione, comunque la profezia era considerata una funzione tipica di questi iatromanti apollenei che pure manifestavano degli altri superpoteri per così dire che ricordano le siddi degli yogi indiani e dei monaci buddhisti per dire, quindi si parla per esempio di guarigioni appunto sciamaniche, quindi guarigioni che hanno a che fare per esempio con l'incubazio, con questa pratica appunto di riuscire a trovare l'accesso al divino, alla verità divina tramite queste incubazioni sotterranee, ingrotte sotterranee che sono delle pratiche quindi ctonie e qui appunto faccio un discorso per mettere risalto il fatto che Apollo da una visione germanista che ancora oggi purtroppo è piuttosto in voga, Apollo viene considerato come una divinità esclusivamente celeste per così dire, esclusivamente uranica, invece se andiamo ad analizzare i rituali degli iatromanti greci vediamo che c'è una cosiddetta coincidenza oppositorum tra i due ambiti appunto uranico, celeste e quello invece sotterraneo, octonio, oscuro, come poi vedremo anche nei cosiddetti centri sacri a Pollini e anche nella linea di San Michele si può vedere questa congiunzione tra gli ambiti abissali e l'ambito appunto assiale, polare. Questi iatromanti a Pollini avevano molti altri poteri sciamanici come oltre a quello della guarigione della profezia c'era quello di togliere il miasma dalle città, per miasma si intendeva una pestilenza ma anche non solo di carattere fisico ma anche di carattere spirituale e quindi di Pitagora, di Aristia di Proconeso, di altri iatromanti si diceva appunto e anche di Empedrocle si diceva che avessero tolto il miasma da città colpite appunto da pestilenze varie o da appunto crisi spirituali o cose di questo tipo. Quindi vediamo che a differenza dello sciamanesimo cosiddetto dionisiaco, vediamo che questi sciamani iatromanti e iatromanti hanno quelle caratteristiche che nella tradizione sciamanica asiatica viene riconosciuta agli sciamani cosiddetti bianchi che riescono in qualche modo a guarire, a intervenire sulla realtà e anche a compiere poi dei viaggi celesti verso gli altri mondi come appunto quello del mito apollineo che è Iperborea, cioè questa isola settentrionale polare che come vedremo non va vista in senso meramente geografico, fisico, terrestre ma anzi va vista in senso mistico. Tuttavia bisogna anche sottolineare che gli atromanti apollinei non compivano solo viaggi di questo tipo, viaggi celesti, ma compivano anche viaggi nel mondo sotterraneo per andare a riprendere anime di persone gravemente malate in punto di morte e questa è un'altra caratteristica che noi troviamo nello sciamanesimo asiatico o amerindio per esempio e nello sciamanesimo siberiano questa caratteristica viene fatta solo dagli sciamani cosiddetti neri. Quindi vediamo che gli atromanti apollinei è come se manifestassero entrambi i lati di questo sciamanesimo bianco e nero quasi fossero gli alfieri così dire di uno sciamanesimo per così dire originario che teneva conto di entrambi i lati di questa medaglia dello sciamanesimo sia bianco che nero. Pitagora soprattutto che io analizzo con Orfeo soprattutto paragonandolo a Zalmoxis che è un personaggio geto, i geti è una tribù della traccia e che già Mirce Liade notò come Zalmoxis fosse un personaggio semidivino facilmente accostabile agli atromanti apollinei. Comunque Pitagora, Orfeo, Zalmoxis e altri personaggi di questo genere in tutti i loro miti che li riguardano c'è sempre l'elemento del viaggio celeste, del viaggio infero e anche dell'incubazio e questo incubazio poi la ritroviamo in tutti quei cosiddetti figli di Apollo secondo il mito il più famoso di quali Asclepio appunto il dio della guarigione sciamanica per così dire e tutti quei figli di Apollo eroi della Grecia arcaica che diventarono poi degli oracoli, dei daimones così è il termine che viene utilizzato dagli autori classici come Plutarco. Il daimones sarebbe un'anima immortale che dopo la vita, tra l'altro di tutti questi daimones viene detto che non morirono veramente ma vennero prelevati nell'altro mondo da Apollo e dalle muse e dalle ninfe, quindi c'è un rapimento in spirito che ricorda quello di Enoch o di Ezechiel o di altri profeti nelle tradizioni antiche e non morendo veramente vengono per così dire fatti rinascere in questo mondo sottile che appunto questo mondo spirituale di cui appunto la tradizione greca conosce con i nomi di Pervoria e da questa postazione che in qualche modo è sia assiale che abissale riescono a interferire come oracoli nel senso che storicamente vi erano dei pellegrinaggi da tutta la Grecia, da tutto il Mediterraneo verso questi centri oracolari diatromantici apollinei per cui i pellegrini appunto praticavano il digiuno, praticavano una serie di azioni che seguono il dettame sciamanico, quindi il digiuno, il volersi distaccare da tutto quanto, andare appunto in questi ambiti pogei per la durata anche di diverse settimane di fila per poter entrare in contatto con questi oracoli e poi vedremo anche meglio quando si parlerà dei centri sacri appunto come c'è sempre questo elemento anche di discesa agli inferi di catabasi che poi consente il contatto con il dio Apollo e con i suoi daimones, cioè i suoi figli e le sue emanazioni per usare, oppure i suoi avatar per usare un termine induista, tanto è vero che Pitagora soprattutto ma anche Empedocle o altri iatromanti apollinei venivano considerati effettivamente delle emanazioni spirituali di Apollo e adesso non mi vorrei dilungare tantissimo perché vedo che sono già... Bene Marco, adesso tra l'altro avevo una domanda proprio su quello che è, con cui concluso l'argomento Bene, allora intanto ti ringrazio, poi Marco è un flusso di informazioni costante quindi starci attento, devi essere estremamente dentro e io ti stimo moltissimo per questo perché sei, anche quando usciamo e chiacchieriamo hai una quantità di informazioni torno sempre a casa estremamente arricchito Quindi volevo dire a tutte le persone che sono in ascolto, che sono tantissimi tra l'altro che se avete delle domande, quindi se per caso vi sfugge qualcosa eccetera fatelo qui nei commenti, io di solito quando sono con Marco gli dico aspetta, fermati un attimo, ti devo chiedere questa cosa Potete fare lo stesso, scrivete le domande che vi vengono in mente nei commenti e le leggiamo alla fine dell'intervento Io passo intanto alla seconda domanda che avevamo per te, che è questa dato che hai finito proprio sul punto giusto Nel secondo capitolo analizzi i miti riferiti ad Apollo e i centri sacri apollinei In che modo la figura di Apollo, anche tenendo conto della linea di San Michele riveste lo stesso archetipo Bene, allora io qui nel secondo capitolo parto dai due centri sacri apollinei più noti vale a dire Delfi e Delo Partiamo da Delo per una questione mitica perché Delo è l'isola in cui secondo il mito Apollo venne nacque nella nostra realtà terrena Il mito di Delo è particolarmente paradigmatico perché mostra delle caratteristiche che poi noi potremmo collegare anche all'ambito apocalittico ed escatologico L'isola di Delo in realtà si chiama originariamente Ortigia, l'isola delle Quaglie Adesso faccio un breve inciso senza entrare, senza analizzare bene questo argomento perché ci porterebbe troppo oltre Comunque nel mito Apollo noi troviamo una serie di uccelli migratori che ricorrono continuamente come il cigno che è l'animale Apollo per eccellenza che porta Apollo nell'isola di Perborio appunto ogni anno troviamo le Quaglie appunto l'isola di Ortigia vuol dire appunto l'isola delle Quaglie l'occa selvatica che è legata alla gemella anche a Artemide insomma tutti questi uccelli migratori sono collegati nel mito alla visione di una ciclicità alla visione di una vita morte e rinascita continua e il mito della nascita di Apollo sull'isola di Ortigia Delo si riallaccia manifestamente a questa visione mitica in quanto l'isola di Ortigia prima che Apollo vinacque trasformandola appunto in Delo che vuol dire la luminosa era un'isola, viene denominata nel mito come un'isola in balia delle onde non fissa per così dire nel mare ma vacante per così dire natante un'isola natante senza un proprio centro viene descritta come un'isola del tutto buia e del tutto rocciosa quindi non toccata da un raggio di luce e addirittura si dice che la madre di Apollo, Leto Latona dovette partorire solo proprio ad Ortigia perché doveva partorire Apollo nell'oscurità più completa appena prima dell'alba si dice questa frase nell'inno ad Apollo di Callimaco e anche poi nell'inno omerico questo è particolarmente interessante anche per quanto riguarda appunto come ho già accennato l'ambito apocalittico e scatologico anche perché si dice che Apollo nacque nel buio più completo appena prima dell'alba e si usa questo termine nell'antico greco che vuol dire luce da lupi e quindi c'è questo elemento del lupo che comunque ritorna sempre nel mito appollino e che noi possiamo anche poi vedremo mettere in relazione anche con l'apocalisse e l'escatologia appunto dei testi che poi andremo ad analizzare meglio cioè gli oracoli sibillini nel mito della nascita di Apollo si dice che Apollo venne nacque appunto nel buio più completo sull'isola di Ortigia e improvvisamente alla nascita di Apollo tutta l'isola divenne d'oro e come si legge poi anche nell'apocalisse di Giovanni tutte le cose vengono fatte improvvisamente nuove dalla nascita di Apollo come se ci fosse una nuova luce che porta alla virginità appunto quest'isola completamente buia, completamente rocciosa e poi si dice anche che con la nascita di Apollo quest'isola prima natante nell'oceano invece viene fissata da quattro pilastri che è un mito che ricorda la tradizione induista degli yuga, delle quattro età, dei quattro cicli cosmici e che appunto dice che ogni ciclo cosmico che passa dal satyayuga che sarebbe l'età dell'oro al kaliyuga che sarebbe l'età del ferro viene meno uno dei quattro pali appunto che regge il cosmo manifestato quindi è come se fosse un simbolo di una nuova età dell'oro la nascita di Apollo a Delo il mito di Delphi non è meno importante anche se ci, anzi forse anche più complesso perché ci mostra oltre al lato luminoso del Dio anche il lato in qualche modo Ctonio perché Apollo prende possesso del centro sacro di Delphi uccidendo Pitone viene detto nella maggior parte dei miti cioè questo drago, serpente, Ctonio che viveva in questo oracolo della Dea Gea cioè della Dea Terra e di Temi, sua figlia e con una serie di sacerdotesse la più importante delle quali era appunto quella che poi prenderà il nome di Pizia da quando Apollo prenderà possesso dell'oracolo tuttavia Carolicheregni uno dei più importanti studiosi storici della religione del Novecento ha sottolineato come nei miti più antichi non si parlava solo di Pitone ma anche di un altro drago, serpente anzi di una draconessa tale Delfine da cui prenderebbe appunto nome il sito di Delphi ora, oltre che richiamare il nome del Delfino che noi sappiamo essere animale Zofania, Apollinea per eccellenza per antonomasia soprattutto sull'isola di Creta il nome di Delfine e di Delphi richiama Delfis che nell'antico greco significa grembo, utero con un'accezione anche di antro di utero cosmico per così dire quindi c'è una anche qui una simbologia che a parte la simbologia luminosa della mistica celeste luminosa di Apollo come Dio appunto solare e della luce che sconfiggendo questo drago ctonio che può essere appunto sia Pitone che Delfine e quindi il culto della dea ctonia tellurica ma c'è anche quindi un elemento in qualche modo ctonio di Apollo stesso nel senso che l'oracolo poi che Apollo andrà a rilevare rimane ctonio non cambia in questo e questo crepaccio appunto sotterraneo in cui la pizia e i visitatori accedendo potranno conoscere la volontà del Dio rimane comunque un oracolo appunto di tipo tellurico di tipo sotterraneo quindi vediamo anche qui c'è una commistione tra l'elemento celeste uranico e l'elemento invece ctonio sotterraneo abissale per così dire uso questo termine abissale perché poi viene ripreso anche dalla denominazione che San Giovanni ne dà di Apollo nell'Apocalisse in quanto angelo dell'abisso Abaddon in ebraico i miti però di Delfi e Delo trovano un senso ancora più ampio se si realizza che questi due siti sacri sono posti su quella che viene chiamata ormai da diversi decenni la linea sacra di San Michele cioè la linea sacra dell'Arcangelo Michele che come saprete è una sorta di linea di ley line per così dire di linea sacra tellurica che attraversa l'intera Europa partendo a Settentrione dall'Irlanda per passare poi dall'Inghilterra dalla Francia dal Piemonte con la appunto la sacra di San Michele e poi dal Gargano in Puglia con il santuario di San Michele Arcangelo e poi scende ancora appunto nel Mediterraneo passando per Delo per Delfi per l'isola di Rodi che era considerata isola sacra d'Apollo nell'antichità ad Atene che noi sappiamo che c'era un tempio appollinio ipogeo che anticipava addirittura la fondazione dell'acropoli quindi veramente antichissimo e poi passa anche scendendo sempre più a Meridione per il Monte Carmelo in Palestina che era luogo sacro dei Cananei al Dio Baal Dio della Luce equivalente non solo all'Apollo greco ma soprattutto anche etimologicamente al Beleno celtico adorato poi anche nel nord Italia quando ci furono le invasioni celtiche Beleno appunto deriva dalla stessa etimologia Baal che era etimologia pre-indoeuropea legata appunto al concetto di luminosità di luce di splendore quindi vediamo che questi siti sacri sono tutti dedicati al Dio della Luce sono tutti quei siti dove nell'antichità pre-cristiana veniva consultato venivano consultati degli oracoli che venivano considerati legati al Dio della Luce che qualunque nome lo si volesse chiamare cioè Apollo nell'ambito greco mediterraneo Bel o Lug Beleno o Lug nell'ambito celtico Baal nell'ambito medio orientale via dicendo adesso potremmo fare un discorso lunghissimo su questo però giusto per dare l'idea dei vari collegamenti che già menzionato Jean Richet potè vedere in questi siti sacri possiamo notare come ci sono anche dei nomi ricorrenti per esempio il nome Gargano che troviamo appunto nell'alto piano del Gargano in Puglia dove c'è appunto uno di questi siti dei sacri a San Michele Arcangelo noi troviamo lo stesso nome Gargan come il gigante possessore del Mont Saint Michel prima della venuta di San Michele quindi è come se questo gigante Gargano che noi troviamo appunto sia in Puglia che in Normandia Mont Saint Michel francese questo gigante Gargano è come se sostituiste il drago pitone delfine nell'ambito nell'ambito appunto greco c'è il significato simbolico è sempre quello di una di una sconfitta da parte della luce delle tenebre il dio della luce che sia Apollo che sia San Michele giunge e prende possesso di questo di questo sito sacro e da quel momento appunto questo sito sacro andrà a formare con gli altri sulla stessa linea sacra una sorta di come si può dire di immagine terrena ecco perché poi c'è da dire anche questa cosa che in varie leggende tra cui anche quella la leggenda della Dasha cioè dell'antica dell'attuale Romania i siti che vengono considerati sacri al dio della luce sono sette e questa numerologia chiaramente riprende il numero delle stelle della costellazione dell'orsa maggiore la costellazione circumpulare anzi meglio che viene sempre collegata nell'ambito sacrale al mondo polare al mondo estremo settentrionale da vedersi però in senso mistico non in senso fisico geografico bene ti ringrazio Marco invito ancora visto che hanno iniziato con qualche domanda vi invito sempre se vi vengono delle domande a farle che le leggeremo in chiusura io vado avanti con le nostre la prossima domanda è legata al capitolo 3 quindi stiamo andando in ordine di capitoli sostanzialmente come nel libro che è appena uscito appunto di Marco la terza domanda che ti faccio è questa partendo dal mito di Iperborea isola sacra legata ad Apollo come hai messo in relazione questa ad Avalon e alle altre isole beate della tradizione indoeuropea dunque il collegamento tra Apollo Iperborea e Avalon non è chiaramente una mia scoperta ma è stato è stato sottolineato da vari autori prima di me tra cui Giulio Sevola Avalon letteralmente è l'isola delle mele è etimologicamente connesso proprio ad Apollo Apollo Avalon infatti derivano dalla stessa etimologia e quindi Apollo sembra in qualche modo anche oltre all'etimologia che poi come vedremo ne fa il dio distruttore da appunto il verbo greco che significa distruggere ma Apollo è anche in qualche modo legato a questi pomi dorati che nella tradizione greca vengono collegati non all'Iperborea ma alle Speridi tuttavia il giardino delle Speridi è una di quei di quelle isole beate di quei mondi altri mondi extracosmici che nella tradizione indoeuropea io in questo capitolo collego in quanto manifestano tutti gli sessitopoi oltre a queste due isole che adesso cercheremo poi di analizzare meglio i punti di contatto io parlo anche dell'Ogigia isola in cui il dio Saturno al termine dell'età dell'oro venne confinato da Zeus in uno stato di coma di vita nella morte attendendo appunto il ritorno dell'età dell'oro circondato dai cosiddetti daimon es beati cioè da quelle anime scelte insomma innanzitutto erano gli abitanti i cosiddetti l'umanità dell'età dell'oro tra virgolette che continuano appunto a vivere in questo stato sottile in questo mondo extratemporale acronico che è appunto l'isola di Ogigia e se noi analizziamo il mito di Iperborea dell'Iperborea Apollinea il mito è estremamente simile al posto di Saturno via Apollo chiaramente come dio polare Iperborea è estremo settentrionale mentre Ogigia è estremo occidentale ed estremo settentrionale qua c'è un elemento occidentale perché Saturno a differenza di Apollo è il dio morto cioè il dio dell'età dell'oro che appunto venendo spodestato dal figlio Zeus continua a vivere in uno stato di vita nella morte invece Apollo non essendo il dio morto appunto dell'età dell'oro gli spetta appunto solo il nord che come vedremo ha una valenza metafisica di esistenza di prete d'esistenza prima della nascita della manifestazione cosmica per dire in due parole tutte queste altre isole come Avalon anche Avalon oppure ha una valenza al tempo stesso estrema settentrionale ed estremo occidentale anche qui perché perché Avalon era considerata governata da Ituata de Danan cioè una stirpe divina della tradizione celtica a cui si imputa diciamo così l'insegnamento della sapienza sacra nella tradizione celtica si dice che i druidi e i sapienti compievano questi viaggi verso il nord e noi sappiamo che bisogna parlare di viaggi mistici come gli atromanti apollinei quindi di viaggi in spirito e poi appunto venivano i druidi imparavano la sapienza sacra imparavano la verità mistica sciamanica da queste entità divine che erano considerate dimoranti in questa isola in mezzo all'oceano all'estremo nord all'estremo settentrione dicevo I Tuata de Danan c'è questa come Ogigia di Saturno c'è questo elemento occidentale oltre che settentrionale in quanto anche i Tuata de Danan sono considerati gli dei dell'età dell'oro che una volta spodestati cedono diciamo così la superficie ai nuovi arrivati cioè all'umanità attuale e si nascondono si occultano in questa dimensione sotterranea ho già visto che qualcuno nei commenti in Shata ha menzionato Shambhal ed effettivamente Shambhal come poi io menziono anche nel libro insieme a un'altra serie di terre mitiche che si rallacciano al medesimo Topos è uno di quei mondi mitici che si connettono solitamente all'età dell'oro che in seguito alla fine della medesima passano per così dire a uno stato occulto a uno stato nascosto che possono essere in cui si può accedere in seguito alla fine dell'età dell'oro solo ai sapienti ai mistici solo con determinate tecniche appunto sapienziali e mistiche questo è un Topos che noi ritroviamo in tutto il mondo sia in Asia in tutti i mondi europei o quantomeno perché io vado a studiare il mondo europeo in questo libro sia in Grecia che tra i Celti ora bisogna anche dire a livello simbolico che l'isola è da interpretare innanzitutto come simbolo nel senso che l'isola come già dice l'etimologia del termine è un mondo isolato rispetto al resto del mondo innanzitutto rispetto all'oceano che la circonda e in tutti questi miti l'oceano che nel mito di Ogigia di Saturno viene detto mare cronium cioè il mare di Crono il mare di Saturno anche qui vediamo che questo oceano è in realtà un simbolo della manifestazione cronica della manifestazione temporale che viene vista in qualche modo come fagocitante e quest'isola adorata beata è l'unico mondo isolato a parte appunto che sopravvive nel mezzo della manifestazione cosmica nelle tempeste oceaniche diciamo così della manifestazione cosmica in uno stato atemporale infatti se noi andiamo ad analizzare tutti i miti dell'isola Iperborea di Apollo dell'isola Ogigia di Saturno di Avalon di tutte le isole che appunto sono considerate isole beate l'isola dei beati il giardino delle speridi ma anche la Tirenagog sceltica che è letteralmente l'isola dell'eterna giovinezza oppure poi io vado ad analizzare anche le cosiddette navigazioni celtiche che sono dei testi di epoca cristiana ma molto più antiche che appunto mostrano come questi mistici compiano questi viaggi in spirito verso queste isole mistiche nel nord del mondo noi vediamo che ci sono tutti gli stessi topoi cioè su queste isole beate vive solitamente il dio dell'età dell'oro e con i suoi con i suoi daimones beati con i suoi fedeli che sono passati anch'essi in uno stato di beatitudine come se vogliamo i bottezzabba della tradizione orientale cioè coloro che si sono sono riusciti ad evadere per così dire dalla manifestazione spazio-temporale per accedere appunto a questo mondo isolato occulto che in qualche modo in cui in qualche modo l'età dell'oro prosegue va avanti non è toccata dalla morte dalla vecchiaia come invece il resto della creazione questo è un topos che noi troviamo in tutte le leggende di queste isole beate persino nelle navigazioni scristiane vediamo che quando anche i monaci in questi testi giungono a queste isole fanno la conoscenza appunto di questa popolazione di esseri appunto immortali che non necessitano di mangiare cibo solido per sopravvivere che non invecchiano che non devono nemmeno dormire e ci sono una serie di topoi ricorrenti come il miele i fiumi di latte l'oro che è sempre ricorrente comunque tutti dei topoi che noi già troviamo nei miti greci appunto riguardanti l'età dell'oro quelli tramandati da esiodo da ovidio e noi li troviamo appunto in tutte le altre tradizioni che riguardano queste isole beate il discorso dell'isola delle speridi del giardino delle speridi è un po' più complicato perché non troviamo effettivamente una popolazione di immortali beati però troviamo delle ninfe le ninfe speridi appunto che sono considerate in qualche modo delle protettrici di queste melo dorate oltre al al drago ladone questo è un altro topo e topos che ritorna spesso in questi mondi polari del mito cioè l'albero dei frutti d'oro spesso connesso anche a una fonte della vita eterna che viene appunto guardato da da un drago da un serpente adesso non so tu vorrai magari adesso analizzare questo ambito cosmologico forse sì sì era la prossima domanda proprio perché sto andando in ordine con il tuo libro infatti la domanda che avevo subito dopo per te era quali sono i simboli cosmologici che troviamo all'interno del mito polare esatto esatto li tratti nel quarto giusto sì esatto infatti il quarto capitolo è connesso al terzo capitolo proprio perché vado ad analizzare di questi miti sulle isole beate estremo settentrionali ed estremo occidentali ma soprattutto estremo settentrionali vado ad analizzare questi topoi cosmologici e in questo capitolo io prendo soprattutto le fila dal storico testo di Giorgio De Santiane e Altavondecen il mulino di Amleto come ho già accennato ci sono questi simboli cosmologici che noi possiamo connettere appunto a questo nord mistico che De Santiane e De Cend nel loro libro il mulino di Amleto appunto collegano secondo varie leggende antiche tra cui appunto quella del mulino di Amlodi nella tradizione scandinava a questo mulino a questo gorgo che si troverebbe al polo assiale della manifestazione cosmica quindi al nord cosmico al settentrione cosmico e quindi idealmente nella stella polare nel punto più elevato del cosmo è chiaro che questa visione non va vista semplicemente in maniera astronomica in maniera appunto materiale fisica ma invece in maniera simbolica cioè il punto assiale del cosmo è il punto da cui parte tutta la manifestazione cosmica ed è anche il punto in cui viene mantenuta durante tutta la durata del ciclo cosmico quella dimensione acronica eterna da cui appunto deriva tutta la manifestazione cosmica e poi in cui verrà riassorbita la medesima alla fine appunto del ciclo cosmico questo è un argomento che poi io tratto nell'ultimo capitolo quando parlo anche dei test apocalittici comunque tutti questi tutti questi topoi che abbiamo già brevemente menzionato quindi l'albero cosmico guardato da un drago questo drago chiaramente che funge da guardiano della soglia e noi troviamo già abbiamo detto nel mito del giardino delle speridi il drago ladone che tra l'altro è collegato etimologicamente alla dona leto madre di Apollo qui ci sarebbe per fare un altro discorso ma lo accenno solo brevemente cioè che la donna e il serpente la donna e il drago sono figure divine strettamente connesse anche nell'apocalisse e non solo ma anche proprio nella concezione cristiana della madonna che calpessa i serpenti via dicendo in realtà fin dalle saghe medievali della principessa e del drago queste sono figure strettamente connesse anche perché la divinità femminile da cui nasce la divina ha delle caratteristiche non del tutto luminose anche se la donna viene considerata una dea comunque della luce essendo male di Apollo tuttavia era anche una divinità figlia di due titani quindi ecco Apollo è per così dire sia figlio degli Olimpi che figlio dei titani e in questo ricordo è il Lug celtico tra l'altro che è figlio sia dei Tuata de Danan che dei Fumori e questo è un elemento che ci permette di inquadrare Apollo come il dio della coincidenza oppositorum oltre ad altri altri temi che adesso magari non so ad approfondire appunto perché mi concentro un attimo sull'ambito cosmologico questo drago comunque delle Speridi o anche poi abbiamo detto il drago pitone del fine ma poi ci sono anche un'altra serie di draghi che ricorrono appunto nel mito di San Michele che poi di un'altra serie di personaggi appolline per così dire divinità della luce di altre tradizioni questo drago è strettamente connesso alla stella polare cioè alla costellazione del draco che anticamente nell'età dell'oro era appunto la stella polare e quindi c'è questo elemento dell'albero cosmico che appunto è l'asse del mondo che passa attraverso tutti i mondi manifestati della creazione guardato da questo guardiano della soglia che è appunto il drago della costellazione del drago appunto e questi pomi d'oro appunto o l'acqua dell'immortalità sono tutta una serie di simboli che hanno a che fare con la perduta l'assialità cioè con la perduta perfezione delle origini da cui anche una serie di miti sulla caduta sia di Saturno appunto precipitato nel Tartaro oppure in altri mondi sotterranei e poi anche altri c'è un mito appunto legato ad Apollo che viene confinato sulla terra da Zeus dopo che questo ha ucciso i ciclopi per punire la morte del figlio Asclepio per la durata di un grande anno ora questa frase che noi troviamo in Eschilo è particolarmente interessante perché il grande anno nella concezione greca era derivata dagli antichi astronomi caldaici caldei e il grande anno era appunto la durata dell'intero ciclo cosmico il che equivale a dire che Apollo diventa in qualche modo il guardiano viene detto da Eschilo delle gregi dell'umanità delle gregi ovviamente in senso metaforico delle gregi dell'umanità come oracolo per la durata di un intero grande anno cioè di tutto il ciclo cosmico in questa in questa visione poi io lo connetto anche connetto anche la figura di Apollo a una divinità orfica la prima divinità della della teogonia orfica che è Fanes divinità della luce primigenia che secondo il mito orfico deteneva in illo tempore all'inizio della creazione il potere su ogni cosa manifesta nel cosmo in quanto le conteneva già tutte dentro di sé questo è interessante perché Fanes è il dio della luce primordiale dello splendore primigenio e nel mito si dice che Zeus per conquistare il potere sull'intero cosmo fu costretto a inghiottire Fanes per conquistare il potere che Fanes deteneva in illo tempore e questo questo mito secondo me è molto interessante da legare appunto al mito di Apollo punito da Zeus e mandato sulla terra a prendersi cura del greggio dell'umanità per un intero grande anno e come poi vedremo appunto quando parleremo dell'Apocalisse c'è come l'idea che questo fuoco luce primigenia sia in qualche modo intrappolata nella creazione intrappolata nelle pieghe della creazione negli abissi della creazione forse anche in questo noi possiamo vedere un collegamento con il fatto che i siti apolline sulla linea sacra hanno un elemento sia assiale c'è sempre un monte c'è sempre un elemento verticale come può essere l'alloro delfico oppure appunto il monte Parnas e via dicendo e poi c'è anche un elemento abissale un elemento una sorta di elemento tutto uterino e questo elemento uterino appunto è da connettersi con questo gorgo con questo mulino di amleto come lo chiamavano appunto Santiano e Decend che sarebbe l'abisso cosmico da cui la creazione tutta parte inizia e poi da cui verrà la fine riassorbita ora io in questo quarto capitolo poi faccio dei confronti anche con la tradizione del ciclo arturiano perché in realtà ci sono tantissimi collegamenti a partire dal fatto che il padre di Artù Pentragon già dal nome richiama appunto la costellazione del drago invece Artù richiama quella dell'orsa maggiore perché Artù appunto è legato all'orso già appunto come suo doppio e adesso senza poi voler analizzare troppo questo argomento però è interessante sottolineare come sia il mito del ciclo arturiano poi vediamo appunto tra l'altro Artù pure viene detto di morare poi in uno stato di vita nella morte sull'isola di Avalon in attesa di ritornare in vita quando appunto il suo regno verrà di nuovo in esistenza cioè quando riverrà di nuovo l'età dell'oro il mito è il medesimo che abbiamo visto nella tradizione greca ma ha aggiornato appunto una sensibilità medioevale comunque quello che volevo dire prima di questa breve parentesi è che Artù e altri tipi di personaggi nella mitologia celtica vengono detti di morare in quest'area extracosmica in cui appunto l'immortalità si mantiene come una si mantiene a differenza del resto del cosmo in cui appunto vige la morte la vecchiaia gli effetti appunto della manifestazione ciclica e il passo forse più al rito che io faccio in questo libro è il paragone il paragone il parallelismo anzi tra queste isole beate dai miti indoeuropei e quello che nella mitologia greca viene chiamato il tartaro ora questo questo parallelismo potrà sembrare un po' azzardato tuttavia in diversi testi greci arcaici quindi si parla di testi di sofia greca detta quindi ai filosofi più antichi diciamo così noi troviamo che il tartaro viene denominato il la torre di guardia di Zeus e questo è un termine curioso in quanto Zeus non dimora effettivamente nel tartaro però questa definizione ricorda in qualche modo l'immagine se avete presente di Odino al culmine dell'Asgard che tiene d'occhio tutto il mondo dal punto assiale della manifestazione cosmica e seguendo questa traccia ho scoperto un autore francese di nome Alemba la briga che in un suo libro il sole e il tartaro avanzò appunto questa ipotesi che il tartaro non debba essere inteso semplicemente come un mondo infernale ma anzi come un mondo abissale sì però in qualche modo in cui l'eternità insomma si prosegue dal primo momento della creazione senza essere appunto toccato dall'involuzione ciclica e questo è particolarmente interessante se noi andiamo ad analizzare effettivamente poi come faremo poi appunto quando parliamo dell'Apocalisse il ruolo che ha l'abisso nell'Apocalisse e appunto Apollo stesso che viene definito da Giovanni l'angelo dell'abisso legato appunto a questo abisso che non è semplicemente l'ade greco anche se le traduzioni greche della Bibbia ne fanno talvolta dell'Apocalisse scusate ne fanno talvolta l'Ade ma è invece l'Abaddon cioè l'abisso ed è un un termine che come vedremo è qualcosa di molto più complesso degli inferi di un luogo di punizione in qualche modo sia dei demoni che dei dei dannati ma il Tartaro e questo Abaddon appunto dà l'idea di essere un mondo abissale in cui in qualche modo gli opposti coincidono e quindi anche gli opposti dell'assialità e dell'abissialità per dirne solo una perché non vorrei dilungarmi troppo su questo argomento che è veramente complesso per dirne una quando Ercole nelle dodici fatiche si trova fronte al Giardini e ad Atlante che regge sulle spalle la volta celeste si accorge che Atlante si trova sia nel Tartaro che in questa dimensione appunto beata sacrale delle Speridi e quindi è come se come dice Ballabriga ci fosse un punto mistico che questi iatromanti che questi mistici inseguivano in cui una volta giunti si verificava la cosiddetta coincidenza oppositorum e quindi si confondevano l'elemento assiale e abissale l'elemento per così dire celeste paradisiaco e quello infero ed effettivamente se noi pensiamo a un luogo in cui la manifestazione cosmica non colpisce insomma con la vecchiaia con l'involuzione ciclica dobbiamo proprio pensare a mio parere a un luogo extracosmico in cui gli opposti coincidono chiaramente perché nell'eternità preter che anticipa la creazione del cosmo che anticipa la distinzione tra spazio e tempo e tutto il resto non possiamo pensare a una realtà dicotomica una realtà di opposti ma anzi a una realtà che ingloba tutti gli opposti nella sua eternità appunto nella sua perfezione bene Marco sei stato estremamente esauriente direi ti ringrazio prima di passare allora io adesso ti faccio l'ultima domanda che abbiamo noi prima di insomma di parlarci ancora un attimo del tuo libro e dei tuoi progetti e soprattutto di dire alle persone come possono ordinarlo insomma eccetera quindi questa per le persone che sono in ascolto che sono ancora tante collegate è l'ultima domanda poi passiamo alle domande del pubblico quinto capitolo qual è il ruolo di Apollo che emerge dai testi apocalittici ed escatologici quali? gli oracoli sibillini l'apocalisse di San Giovanni e la quarta egloga di Di Eugenio bene io inizierei dagli oracoli sibillini partendo il discorso dalle sibille le sibille come saprete erano una categoria di donne veggenti che cadendo in uno stato di trans diventavano degli oracoli per la voce del dio Apollo perché tutte le sibille del mondo antico erano connesse ad Apollo noi conosciamo bene la sibilla cumana la sibilla tiburtina ovviamente la pizia di Delphi Varone ne riporta dieci ma in realtà queste dieci sibille devono essere viste non tanto come persone fisiche ma come scuole sacre appunto scuole sacrali in cui questa tradizione oracolare appollinia veniva portata avanti veniva passata insomma sacralmente ora il discorso degli oracoli sibillini si ricollega in maniera ideale all'apocalisse a cui abbiamo già accennato e nonché al quadregologa di Virgilio di cui parleremo un attimo alla fine perché gli oracoli sibillini anche se ci sono giunti tramite delle interpolazioni cristiane e giudaiche attraverso i secoli prendono ovviamente le fila da dottrine antichissime escatologiche che noi troviamo che noi troviamo appunto in tutto il mondo indoeuropeo soprattutto in quello iranico riferite al dio Mitra soprattutto che ebbe una grande importanza tra appunto il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo anche perché le truppe romane distanza sul Mar Nero dove tra l'altro Apollo era adorato come una delle sue epiclesi ctonee vediamo che il dio Mitra viene appunto collegato ad Apollo da questi culti e se noi analizziamo i testi sibillini gli oracoli sibillini troviamo una serie di profezie che ricorrono tutte con estrema con estrema coerenza a parte gli elementi più moralistici forse che sono senza dubbio delle interpolazioni di tipo cristiano e giudaico però noi vediamo che negli oracoli sibillini emerge l'idea che al termine del ciclo cosmico sarebbe avvenuto questo passaggio apocalittico che avrebbe riportato il mondo a una sorta di perfezione originaria una virginità originaria attraverso un passaggio nel fuoco e questo passaggio nel fuoco ritorna in maniera ossessiva in tutti i dodici libri degli oracoli sibillini ma non solo infatti lo troviamo anche in una serie di tradizioni escatologiche apocalittiche appunto indoeuropee come per esempio quella norrena del Ragnarok dove appunto l'apocalisse verrà portata da Surtr che è questo dio primordiale che ha delle caratteristiche funzionali e simboliche che lo legano al Saturno dell'età dell'oro della tradizione latina già fin dall'etimologia Surtr e Saturno sono evidentemente collegati ma non solo Surtr etimologicamente si può anche collegare a Sator e Soter che sono due termini latini che adesso andrò a spiegare il perché sono centrali in questa concezione scatologica secondo la tradizione sibillina e più in generale greco-romana il ruolo di Sator cioè di seminatore è da attribuire a mi senti Dorian aspetta sai che non sento mi senti mi senti mi senti mi senti un attimo si si ti sento vai dicevo la denominazione di Sator di seminatore nella tradizione greco-romana viene attribuita a Saturno in quanto è il dio dell'età dell'oro della prima età dell'età primigenia e viene considerato quindi la potenza luminosa che all'inizio del ciclo semina i semi della creazione non a caso Saturno era considerato nella tradizione latina anche il dio seminatore il dio delle semine dell'agricoltura e questo chiaramente va visto in senso metafisico non semplicemente appunto agrario laddove invece il ruolo di Sotter cioè di Salvatore che noi troviamo appunto nella tradizione indo-iranica Amitra e in altre tradizioni ad altre figure come il Maitreya dei buddisti come il Kalki ultimo avatar di Vishnu nella tradizione induista questo Sotter nella tradizione greco-romana appunto spetta ad Apollo ora è molto importante questa connessione tra le due divinità che aprono e chiudono il ciclo cosmico in quanto a parte l'etimologia già sottolineata con Surt ma anche perché il mito Apollineo in realtà contiene degli elementi in tal senso che ci fanno pensare appunto un'escatologia molto antica che noi possiamo ritrovare nelle cosiddette offerte iperboree che venivano fatte passare da paese a paese fino a giungere a Delphi ora questo è un discorso molto complesso cercherò di farlo molto breve queste offerte iperboree venivano considerate connesse al grano e tuttavia non erano il grano il grano avvolgeva queste offerte ma cosa fossero queste offerte iperboree non si sa di preciso cosa fossero sta di fatto che il mito voleva che venissero originariamente dall'iperborea quindi da questo mitico regno appollineo e appunto passando attraverso tutti dei centri sacri sarebbero giunti infine ad Elphi queste offerte iperboree venivano portate secondo il mito da queste vergini iperboree che sempre secondo il mito vennero uccise quando la prima volta che portarono queste offerte vennero appunto anziché essere accolte dagli abitanti di Delo non di Delphi vennero uccise era Delo scusate non Delphi vennero uccise ora questo mito a mio parere va letto in un ambito con una prospettiva metafisica vale a dire per vergini iperboree noi dobbiamo intendere qualcos'altro anziché delle mere fanciulle proveniente da questa isola settentrionale in senso fisico cosa sono le vergini iperboree se noi ci pensiamo in senso metafisico la vergine è un'anima che non si è mai reincarnata e iperboree appunto significa proveniente dal punto massimo dal punto più assiale più polare della manifestazione cosmica quindi da quel punto acronico atemporale eterno che ancora non fa parte della dimensione spazio-temporale della manifestazione cosmica propriamente detta quindi l'idea di vergini iperboree secondo me passa a quest'idea di anime appunto che si reincarnano per volta nel ciclo cosmico e l'offerta iperboree appunto è proprio un'offerta nel senso del sacrificio nel senso classico del termine cioè il sacrificio in cui il sacrificato e il sacrificante coincidono questo è un discorso complessissimo che però nel libro cerco di analizzare in maniera un po' più un po' più corposa ecco sarebbe un po' difficile spiegarle in termini precisi ma quello che voglio sottolineare è l'idea che questa visione questa lettura delle vergini iperboree secondo me va di pari passo a quella che ho già menzionato del dio fanes cioè di questa luce primordiale che entrando o comunque essendo intrappolata nel ciclo cosmico della manifestazione cosmica rimane in qualche modo intrappolata come se questo fosse una tomba da cui poi si deve liberare addirittura a Delo si può vedere ancora oggi le tombe di queste vergini iperboree e secondo me questo va visto appunto come ho già detto in senso metafisico poi ci sarebbe poi da fare un altro discorso sul tema del corpo come prigione dell'anima che già aveva notato Platone però non mi vorrei dilungare troppo perché appunto vorrei passare anche all'Apocalisse nell'ambito apocalittico nell'ambito dell'Apocalisse di Giovanni innanzitutto è interessante rilevare come l'Apocalisse venne scritta sull'isola di Patmos e se noi andiamo a studiare sulla carta geografica dell'isola di Patmos noi scopriamo che è estremamente vicino alla cosiddetta linea sacra di San Michele cioè la linea sacra a Pollini alla fine non solo San Giovanni trascorse tutto il tempo sull'isola di Patmos in incubazio cioè in uno stato sacrale simile a quello degli iatromanti a Pollini in un ambiente ipogeo in una grotta e proprio in questa grotta proprio in questo ambiente sacrale ebbe le visioni appunto che lo portarono poi a scrivere il libro della rivelazione l'Apocalisse ed è anche curioso il fatto che nomini esplicitamente Apollo Apollo viene considerato da San Giovanni colui che aprirà il quinto sigillo dell'Apocalisse e viene denominato appunto l'angelo dell'abisso come ho già anticipato questo abisso non è semplicemente l'inferno o l'ade ma ha a che fare appunto con quello che io collego sia al Tartaro che a questi mondi extracosmici della mitologia indoeuropea ed è a mio parere è curioso che si dica che Apollo l'angelo dell'abisso non apre lui stesso l'abisso ma fa scendere dal cielo una stella ed è come se fosse a mio parere il lato della medaglia per così dire oscuro di Apollo che volendo una mia ipotesi volendo si può rintracciare in quello che viene chiamato nella tradizione cristiana Lucifero Lucifero effettivamente è un dio della luce gli stessi originariamente nell'ambito latino Lucifero fosforo in greco è infatti il portatore di luce e viene connesso anche astrologicamente al pianeta venere e il pianeta venere nelle tradizioni sia a vetero testamentarie ma anche in quelle teosofiche per esempio viene connesso ai cosiddetti angeli caduti oppure in abito teosofico ai superiori sconosciuti quindi a questa sorta di classe di divinità che poi la Blavatsky chiama i figli della fiamma quindi qua vediamo che ritorna sempre il tema del fuoco e della luce cosmica appunto in qualche modo sembrano essere degli aiutatori in qualche modo dell'umanità o meglio dei saggi dell'umanità di coloro che riescono ad entrarci in contatto anche questo sarebbe un discorso un po' troppo lungo da fare adesso per intero però volevo sottolineare qualche punto anche per quanto riguarda questa corrispondenza con Lucifero soprattutto è netta se si considera il cosiddetto Apollo celtico cioè Lug Lug ha dei dei tratti in comune con Lucifero veramente incredibili per esempio il giorno in cui viene festeggiato Lug cioè l'Hammas nel calendario celtico il primo agosto viene considerato viene nella tradizione viene considerato nella tradizione celtica il giorno del Dio che si inabissa e questo è una denominazione appunto che fa ricordare sia Lucifero e gli angeli caduti che vengono inabissati ma anche appunto Saturno e Apollo nel mito che abbiamo visto precedentemente o anche Prometeo che è un'altra divinità tipicamente Apollinia in questo senso e Luciferica in questo senso ma non solo nella tradizione cristiana il primo agosto è il giorno in cui Lucifero viene precipitato sulla terra e quindi qua c'è un elemento assolutamente di coerenza assoluta probabilmente derivato appunto dal calendario celtico precedente a quello cristiano ancora più importante è sottolineare come l'Hammas la festa del Dio della Luce nell'ambito celtico sia la festa del primo raccolto e questo primo raccolto se noi ci colleghiamo a quanto detto precedentemente sul Sator seminatore e il Soteri salvatore noi possiamo collegare facilmente a una visione scatologica il che vuol dire che non solo la festa del primo raccolto celtico va vista come la festa appunto in cui veniva offerto il primo raccolto alla divinità della Luce Lug e alla sua paredra Lugina o Belisama secondo appunto Belisama con Beleno Lugina con Lug ma questa divinità della Luce in qualche modo viene legata tramite il tema del raccolto appunto al raccolto finale della fine dei tempi il raccolto poi è un tema che ritorna anche negli oracoli sibillini che ritorna anche nella quarta egloga di Virgilio di cui appunto adesso proverò a dire qualcosa collegandomi a quanto già detto Virgilio si riallaccia a delle teorie astrologiche e cosmologiche molto antiche che noi abbiamo appunto già intravisto negli antichi nell'antica sapienza caldea del grande anno e secondo Virgilio questa questo nuovo inizio questa nuova questo nuovo inizio di una nuova età dell'oro avverrà sotto il segno di Apollo il il regnum Apollinis così lo chiama lo chiama Virgilio il che significa appunto che Apollo in questa sua funzione è identico al Saturno dell'età dell'oro con una però con un ruolo anche di chiusura del ciclo precedente oltre che di inizio del ciclo successivo e nella quarta igloga di Virgilio ritornano una serie di figure mitiche che appunto sono oltre a Saturno che abbiamo già nominato e ad Apollo questa lucina che solitamente viene collegata a Giunone ma che in realtà sarebbe più corretto a mio parere e anche a parere di Nuccio d'Anna che io cito connettere alla Diana Lucifera cioè alla Artemide Lucifera gemella e paredra di Apollo quindi anche lei divinità della luce e a questa coppia di Apollo e Lucina Diana Lucina nella quarta igloga di Virgilio viene per così dire corrisposta la coppia formata da Saturno e dalla Vergine all'inizio dei tempi anche qui ci sarebbero molte cose da dire la Vergine viene menzionata negli antichi testi come legato a un atto di spargere delle spighe in tutto il mondo mentre la Vergine fugge da Tifone alla fine dell'età dell'oro e questa sparsione di queste spighe di grano alla fine dell'età dell'oro ha esattamente lo stesso senso metafisico della semina portata avanti da Saturno ecco e poi nella quarta igloga di Virgilio ritornano un'altra serie di temi di tipo appunto astro-teologico come quelli che vogliono i due punti cardine dell'anno cosmico nel capricorno e nel cancro cioè nel sostizio d'inverno cosmico e nel sostizio d'estate cosmico ora alcuni autori antichi di ambito soprattutto pitagorico come Nigidio Figulo nel suo frammento 67 individuarono l'avvenuta del regno appollinis della nuova età dell'oro portata da Apollo proprio nel momento del sostizio d'estate cosmico cioè quando i pianeti sarebbero stati tutti allineati sotto il segno del cancro e questo è curioso perché se noi pensiamo al sostizio d'inverno cosmico nella costellazione del Capricorno come il punto assiale del ciclo cosmico noi possiamo pensare invece di contro al sostizio d'estate cosmico cioè al cancro alla costellazione del cancro come il punto abissale del ciclo cosmico cioè il punto più basso più abissale non è un caso forse se il cancro astrologicamente è l'unico segno che è da connettersi alla luna cioè a quel corpo celeste che fa da grembo da incubatore all'intera creazione sublunare per così dire e quindi forse la denominazione di Apollo come dio dell'abisso potrebbe anche derivare da questa visione cosmologica forse è una mia ipotesi questa non vi assicuro niente questa è stata una mia ipotesi in più però riallacciandomi appunto all'intuizione degli autori che ho appunto appena nominato tra cui Virgilio e Figulo Bene Marco io ti ringrazio tantissimo tra l'altro è un libro hai detto così tante cose questa sera ci hai dato così tanti spunti che immagino che il libro quante pagine è? Allora il saggio è 360 pagine tutto il libro è 384 Bene quindi un bel volumone come fa ovviamente ovviamente la volontà di fare 360 pagine di saggio è voluta chiaramente perché 360 sono i gradi del cerchio e qua c'è tutta una si ricollega poi alla tematica che vado a portare avanti per ordinarlo lo potete ordinare sul sito di Axis Mundi Axis Mundi punto blog vi dico anche il sito della casa editrice del nuovo sito della casa editrice Axis Mundi edizioni punto it oppure punto com oppure punto org e lo potete ordinare mi dimenticavo lo potete ordinare sia in formato cartaceo sia in formato pdf Io ti ringrazio intanto tantissimo ancora di essere stato qua con noi stasera di averlo presentato qua e ti auguro veramente a nome di tutti noi il meglio per questo tuo grazie molto gentile grazie mille di cuore ho un paio di domande che sono qui che ti faccio prima di chiudere che sono questa di Nicole Giacometti la concezione dell'abisso che hai citato può trovare corrispondenza con la notte oscura di Giovanni della Croce un passaggio necessario per arrivare al divino io direi direi di sì allora conosco la notte oscura di Giovanni della Croce perché ne parlava tra gli altri mia sceliade quindi conosco abbastanza di cosa si parla è un concetto che è simile all'anigredo alchemica volendo ed effettivamente sia possibile perché soprattutto io ne parlo nel secondo capitolo quando analizzo il mito della nascita di Apollo Adelo appunto il fatto che Apollo debba nascere nell'oscurità assoluta nel momento più abissale della notte appena prima appunto dell'alba e questa è una tematica che poi io ricollego anche appunto al tema apocalittico in quanto la manifestazione del dio della luce che sia Apollo che sia Vishnu sotto la veste dell'avatar Kalki o di Maitreya delle altre divinità appunto che porranno fine al ciclo cosmico vediamo che giungono sempre nel momento più oscuro del ciclo cosmico cioè nel momento ovviamente finale nel momento più buio e quindi sì effettivamente questa questa corrispondenza con la notte buia dell'anima secondo me ha senso però è una notte oscura dell'anima che si deve estendere a tutta non solo l'umanità ma addirittura all'intera creazione a mio parere bene ti ringrazio e ne ho un'altra che è proprio sempre prima di chiudere di Nicole Giacometti che chiede Marco ti volevo chiedere si possono identificare i perbore e Shambhala come la stessa cosa oppure due luoghi spirituali diversi grazie come sempre a tre parti allora sì grazie grazie Nicole come ho già anticipato a mio parere i perbore e Shambhala nascono da uno stesso archetipo che è questo punto dell'isola però occhio perché per isola non va intesa solo l'isola nel senso fisico come abbiamo in mente noi ma anche appunto come questi regni occulti del tipo di Shambhala che alla fine dell'età dell'oro come dice Evola in rivolto contro il mondo moderno passano a uno stato occulto nella manifestazione quindi non sono più visibili non sono più accessibili ovviamente in un senso ovviamente qua non bisogna pensare che prima erano visibili in senso fisico quanto piuttosto che la nostra la nostra come posso dire la nostra ontologia dell'essere l'ontologia dell'essere prima della caduta della cosiddetta caduta ce ne rendeva possibile l'accesso ora a mio parere questo è da vedere in senso metafisico non nel senso che l'essere umano originario poteva giungere fisicamente in questi luoghi questo è anche un altro discorso un po' complesso magari poi risponderò magari a Nicole se mi vorrà scrivere in privato glielo spiegherò meglio magari citando delle pagine del libro però sì l'idea che io porto nel libro parlando anche di Shambhala o di un'altra terra mitica che io cito di questo genere è la terra lucida dei Mandei e dei Sufi che viene anche appunto collegata a queste isole beate dallo stesso Henri Corbin cioè questo massimo studioso probabilmente della tradizione Sufi e Manichea che appunto descrive queste isole beate della tradizione Sufi questa terra lucida appunto la descrive in una maniera identica al cosiddetto viaggio astrale di Timarco che era questo iatromante greco che compì un incubazio per consultare il daimon di Socrate e compì questo viaggio mistico in spirito chiaramente durante l'incubazio in cui vide dall'alto diverse isole sospese del cosmo nel cielo in cui c'erano diverse luci che si posavano su queste isole e questa descrizione lui vedeva tutto quanto dall'alto come la visione di Enoch di Ezechiele e via dicendo questa descrizione ricorda tantissimo se voi possedete questo libro magari potete andare a vederlo quanto dice Henri Corbin nel libro L'uomo di luce nel sufismo iraniano quando racconta appunto degli accessi a questa dimensione mistica da parte dei mistici Sufi appunto che descrivono questo mondo spirituale con questa con questa perifrasi che io trovo bellissima perché questa perifrasi di mezzanotte di mezzogiorno oscuro o mezzanotte di luce a quasi a sottolineare anzi senza quasi a sottolineare l'idea di una coincidenza oppositorum che si verificherebbe una volta che l'operatore mistico entra in questo in questo mondo spirituale appunto che come abbiamo detto essendo il mondo eterno che anticipa la creazione non può non può essere fondato su dicotomie ma deve comprenderle tutte appunto nella sua perfezione bene grazie mille intanto Marco ancora di aver risposto a queste domande io chiuderei qua la trasmissione di questa sera ringrazio tutti voi intanto di essere stati come sempre numerosissimi qui a seguire la diretta con noi scusa Dorian vorrei rispondere ho visto un commento non distribuirete all'esoterica di Milano sì tra una settimana o due distribuiremo pure all'esoterica di Milano e voglio ringraziare anche tutti quelli che stanno scrivendo veramente sono veramente soddisfatto quindi per il volume di Marco appunto il sito oppure distribuito anche in alcune librerie tra cui l'esoterica Milano a quanto pare e per quanto riguarda le altre attività vi invito a seguire Axis Mundi per chi ancora non lo conoscesse mentre invece per la società dello Zolfo vi invito a seguirci su Instagram su Facebook e su Telegram per restare aggiornati prossimi eventi domani pubblicheremo la prossima conferenza che andrà in onda mercoledì prossimo e sono aperte le iscrizioni per il corso di introduzione alla storia dell'esoterismo 2 con Michele Olzi e Massimo Introviglia io vi auguro una buona settimana a tutti e ci vediamo prestissimo grazie Marco e a presto grazie Dorian grazie a tutti voi